Ciao a tutti e benvenuti su MyTipoleJersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la seconda maglia del Tottenham per la stagione 21 e 22 nella versione player, quella cioè indossata dai calciatori. Come ho già avuto modo di dire nell'altro video che ho fatto di questa maglia della versione fan che potete trovare qui sopra, questa versione è rivoluzionaria, secondo me è veramente molto bella, tra l'altro ha questa fantasia che ricorda un po' la galassia, che ricorda un po' se vogliamo le sfumature del marmo, di questi colori neri, rossi, blu, veramente belli. Le rifiniture, gli sponsor, i loghi sono di colore Venom Green, un colore che va giallo tendente al verde acido. Nella mia personalissima classifica questa maglia prende 4 stelle, voi mi direte voi cosa ne pensate. Secondo me comunque è stata studiata bene, piacerà tanto ai giovani, tant'è che mio figlio per esempio me l'ha anche chiesta. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete tutti i dettagli e ci vediamo alla fine per la vestibilità e le misure. Ciao a dopo! Nella versione player lo stemma del club, il logo Nike e il main sponsor sono termosaldati, peraltro anche nella versione fan sono termosaldati, come potrete vedere dal video che abbiamo fatto sul canale. La versione player usa la tecnologia dry fit advance, in controluce è possibile vedere la trama della versione player, è molto diversa dalla versione fan. Sul fianco la banda nera non è continua ma forma questa specie di zigzag. La maglia è a girocollo, molto bello che sul fronte è nero e sul retro è viola. Sul retro la maglia ha un grande spazio nero dove vengono stampati i numeri dei calciatori. Questa se vogliamo è la differenza più grande che c'è tra la versione fan che invece presenta la stessa tinta sia sul fronte che sul retro. Allora cosa ne pensate? Io spero che il video vi sia piaciuto e spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ora vi lascio alla parte in cui vedrete le misure e la vestibilità. Ciao alla prossima! Io sono alto 1,75 x 70 kg e questa è una taglia large della versione player version. Ciao! 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 Grazie a tutti.